E potrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Foggia, sulla panchina del Foggia. Qual è Luca? Il nome è quello di Delio Rossi, già perché il club rosso-nero, dopo le dimissioni di Mario Somma e il diniego della FIGC a una deroga superiore a una settimana per affidare la panchina al vice, Lorenzo Giunta cerca un nuovo allenatore. Come raccontavamo anche nell'edizione di pranzo, il profilo individuato è quello di un sergente di ferro e una delle piste valutate, anzi la pista più calda in questo momento, porta a Delio Rossi, che è legato al Foggia, dove ha giocato tra l'81 e l'87, ha allenato nella stagione 95-96. E un tifoso rosso-nero è legato a Foggia anche perché sua moglie, proprio del capoluogo Dauno, ha incontrato nella giornata di martedì Rossi, il DS rosso-nero sapio, la proposta è di un contratto fino a giugno del 2024. Starà all'allenatore classe 60, che è fermo dal 2020, anno dell'ultima esperienza ad Ascoli, valutare il tutto entro la giornata di mercoledì.